Ciao, io sono Emanuele, benvenuto su questo mio canale dove parlo di fotografia e videomaking. C'è una frase che ho scelto che mi rappresenta molto bene, catch emotions, get inspired. Fissare emozioni, lasciarsi ispirare, perché l'emozione che si prova nel creare qualcosa che piace a te e riesce a emozionare anche gli altri, penso sia unica. E questo connubio magico io l'ho trovato soprattutto nella fotografia. Ma non solo fotografia, anche cinema. Un'arte con la quale lo spettatore viene trasportato fuori dalla realtà, con la quale crei fissando delle emozioni e lasciandoti ispirare. Catch emotions, get inspired. Io ho provato a creare fin da bambino, come quando mi improvvisavo conduttore televisivo di un programma sulla pesca in fiume. Forse era destino che prendessi questa strada, che trasformassi le mie passioni nel mio lavoro. Ricordo che quando presi questa decisione ero spaventato. Per me era una scommessa, però quando metti tutto te stesso nel tuo lavoro, il lavoro parla per te. La passione ti fa andare avanti nei momenti difficili. Ti dà la possibilità di sognare. E una vita senza sogni non merita di essere vissuta, no? E una volta che inizi a raggiungere i tuoi obiettivi, ecco che vuoi condividere la tua esperienza con gli altri. Ecco il perché di questo mio canale, sul quale troverai sì video, tecnici, tutorial, recensioni, ma spero tu intraveda anche l'enorme passione che mi muove e che spero ti contagi. Affinché anche tu arrivi ad emozionare gli altri emozionando te stesso. Per cui fai un giro tra i miei video e se ti piacciono iscriviti. A presto! Grazie a tutti!